lascia tutti a bocca aperta il topless della splendida Sharon Stone 63 anni e nessuna paura a sfoggiare un fisico da urlo quando il fascino e la bellezza restano nonostante il tempo che passa del resto i 60 anni non sono più quelli di una volta e soprattutto non sono sinonimo di vecchiaia Valeria Secchi 54 anni e nessun timore a dare una svolta totale alla sua vita si è reinventata modella con successo rimettendosi in gioco a testimonianza di quanta ricchezza ci possa essere nella vita anche dopo gli alta sa quello che vuole la nostra Monica Bellucci classe 1964 ancora stupenda e per nulla angosciata dagli anni che passano un'altra oltre 50enne sempre più sexy è Jennifer Lopez forma fisica smagliante balla e canta con un'energia che neanche una ventenne e i suoi video super sensuali incantano mezzo mondo e poi c'è la venere nera Naomi Campbell ancora tra le 50 donne più belle del mondo continua ad essere richiestissima sulle passerelle e ha trovato a quest'età il tempo e la gioia di diventare mamma